In Toscana che progetto è stato presentato? Cosa sta nascendo da questo brifo? Noi abbiamo preso in considerazione l'esperienza soprattutto di alcuni di noi che fanno i fiendolari e abbiamo affrontato le problematiche che noi incontriamo ogni giorno e quindi stiamo cercando di creare un'app che sia una specie di coltellino svizzero del viaggiatore affinché tutti si possano viaggiare meglio, potendo segnalare, potendo aumentare anche l'iterazione tra le persone che ci sono nel treno e quindi abbiamo diverse idee, sfruttando social e varie altre tecniche per poter migliorare l'esperienza dell'utente. Quindi in particolar modo è indicata al treno? Sì, è particolarmente indicata verso i pendolari, chi fa la vita del pendolare e chi usa il treno tutti i giorni. Quanti hackathon avete fatto fino ad adesso? Per ora ne abbiamo fatti due e uno l'abbiamo finito. Sperate di replicare questo modo? Speriamo di riuscire a rifare una vittoria.